Nella cultura contadina, il diverso viene associato al demonio. Roma, 1952. Il funzionario ministeriale Furio Momente viene convocato per una questione delicatissima. In Veneto, un minore ha ucciso un coetaneo, convinto che fosse il diavolo. Tra spinosi equilibri locali di chiesa e politica, Momente dovrà districarsi in una realtà tanto complessa quanto sinistra. Con Il Signor Diavolo, Pupi Avati crea un altro capolavoro gotico ricco di sfumature, in bilico tra soprannaturale e superstizione. Lo sguardo del regista sull'Italia rurale degli anni 50 è intriso di pessimismo e si avvale di un cast esemplare. Senza bisogno di ricorrere a effetti raccapriccianti e mantenendo ferma la propria cifra autoriale inconfondibile, Avati si muove con eleganza e racconta una storia che avvince, interessa e sorprende in un'atmosfera magica ma lucubre.